Sono Francesco Lucchese, architetto e designer. È la prima volta che collaboro con un'azienda di climatizzazione. Ho conosciuto Etaci perché cercavo per i miei progetti di architettura un terminale di design in silent iconico riconosciuto, forme lineari, compatte e un design che risponde funzionalmente e mantiene uno stile moderno e compatibile in diversi ambienti. Da questo incontro è nata la collaborazione con Etaci per il Forisalone 2022. Insieme abbiamo scelto di presentare Silent Iconic con un'installazione nell'evento di interne alla Statale, un celino senza fine che potesse mettere in evidenza caratteristiche funzionali e insieme formali del prodotto. In molti ambienti pubblici, anche uffici, la ripetizione di linee come Silent Iconic si fondano con le superfici e diventano un linguaggio tecnico e trasversale. La presenza di più pannelli non incide nell'ambiente. Capacità di lavoro a bassa emissione acustica. Il design della griglia sottile con un rapporto vuoto pieno decisamente di design si sposa con la forma quadrata, che è stata studiata per attualizzare la cassetta 4V standard e per questo diventa più facilmente posizionabile in qualsiasi ambiente. Peraltro il colore, il Total Black, unico nel settore, accompagna in modo perfetto lo spessore di soli 13 mm, che guardando dal basso diventa invisibile. Nella ricerca di materiali sempre più compatibili alla sostenibilità ambientale, che è diventata la vera sfida, moderna, da mettere come focus. Il design innovativo può essere riciclato, costruito con rispetto per l'ambiente ed è la strada che stanno percorrendo in molti. Il mio studio progetta in diversi settori, da un design tecnologico come la cappa con cui abbiamo vinto il compasso d'oro con Falmec, a design e decoration come vasi e lampade in vetro di murano per Benini. Con questo intendo dire che il design ha senso con un approfondimento prima delle scelte formali. Il design per me deve rispondere a bisogni, per questo la ricerca è fondamentale. Il design per me deve rispondere a bisogni, per questo la ricerca è fondamentale.